Bentornati popolo di Cripton, salve a tutti. Oggi cominciamo, anzi rincominciamo con la nostra scorpacciata di news da parte del mondo delle criptovalute. Allora iniziamo subito con le dichiarazioni di Steve Chiavarrone che è praticamente il vice presidente della Federated Invested, investor anzi, è praticamente una persona che gestisce circa un portafoglio di 400 miliardi di dollari, quindi non bruscolini, e che praticamente appunto annovera la blockchain tra i cinque principali innovazioni tecnologiche che faranno la crescita della nuova economia mondiale. E appunto quando gli chiedono qualche esempio cita gli esempi di Intel e Nvidia, i due grossi colossi che appunto con i loro processori mining hanno un grande potenziale di crescita, cita anche la corsa appunto come delle varie banche, delle varie istituzioni finanziarie che adesso si stanno buttando a capofitto dentro il mondo delle criptovalute. Quindi secondo questo personaggio abbastanza di spicco all'interno della politica ma soprattutto dell'economia mondiale, la blockchain è una di quelle innovazioni che vanno annoverate. Passiamo ora invece a Chris Lee, Chris Lee che è, era o meglio bisogna dire era, è l'ex presidente, era il presidente di OKX che era l'exchange con Seda Malta che si è dimesso, si è dimesso perché per altri progetti di vita privata ha detto, e si dimette proprio nel momento in cui l'exchange raggiunge il suo traguardo dei 2 miliardi di dollari di volume al giorno per gli scambi e quindi aveva raggiunto suo record ed era diventato l'exchange con il volume di scambi più grosso al mondo, superando anche Binance, però ha deciso di dimettersi e quindi insomma ci sono stato un po' di critica su web per questo ma è una sua decisione personale, lo lasciamo fare giustamente no? Riportiamo poi questa notizia di mercato barra news perché abbiamo visto l'impennata di così, boom, più 30% da parte di Zcash, questo perché? Perché Zcash è stata inserita da parte di Gemini, Gemini che appunto è l'exchange, quello americano gestito dai due gemelli Winklevoss e appunto loro l'hanno inserito come base di scambio insieme a Ether e insieme a Ethereum e a Bitcoin e sono quindi il primo exchange al mondo ad avere appunto introdotto Zcash in maniera regolamentata. Hanno rilasciato anche delle dichiarazioni abbastanza interessanti che ora vi riporto, infatti Tyler che è uno dei due fratelli ha dichiarato che Zcash riprende da dove si era affermato Bitcoin, riferendoci ovviamente al discorso della privacy perché appunto lui dice che Bitcoin ha fatto un'innovazione importantissima però sotto il profilo della privacy è un po' carente, mentre Zcash colma questo gap e quindi loro ci puntano molto. Ovviamente è stato un processo lungo di verifica anche perché Gemini essendo poi in contatto anche con il Nasdaq è uno degli exchange più regolamentati, uno degli exchange più supervisionati quindi c'è stato un processo di verifica e di studio del progetto Zcash prima di poterlo inserire. Tra l'altro il presidente, il direttore che si occupa dell'exchange ha anche appunto dichiarato che secondo lui Zcash e Bitcoin sono diversi, cioè nel senso Bitcoin è oro digitale mentre Zcash è moneta digitale. Quindi sicuramente molto interessante e ha fatto bene al mercato perché infatti Zcash è subito partito molto forte in mezz'ora, più 30% ha fatto. Andiamo invece ora dall'altra parte del mondo, andiamo in Thailandia perché è stato approvato il decreto regio di regolamentazione delle criptovalute, un documento di più di 100 pagine e anzi più di 100 sezioni che è stato appunto pubblicato ieri che riguarda quindi le criptovalute, i token digitali, le monete digitali e anche l'ICO. Infatti in Thailandia non sono assolutamente contro niente di tutto ciò, non bannano niente, nemmeno l'ICO a loro, loro vanno proprio tranquillissimi e semplicemente però come dichiarano bisogna regolamentarli. Infatti hanno fatto un procedimento di regolamentazione che entro 90 giorni tutti i vari rivenditori, broker, gli scambi, chi vuole fare l'ICO bisogna regolamentarsi a quello che praticamente sarebbe la SEC thailandese e se non si regolamenta entro questi 90 giorni c'è una multa a dover pagare e insomma in questo decreto è stato un po' registrato tutto ciò che concerne ovviamente poi con il passare del tempo le leggi si modificheranno e si aggiusteranno però è un passo importante perché comunque una nazione si porta così avanti è una delle prime a mettere su carta tutta una serie di punti per poter regolamentare e gestire tutto questo nuovo mercato emergente. Dalla Thailandia ci spostiamo un pochettino, torniamo in Corea, torniamo in Corea perché le indagini dove ci eravamo lasciati la settimana scorsa nei confronti di Hubbit stanno andando avanti, stanno andando avanti e si stanno estendendo l'intero mercato degli exchange tant'è che è entrata anche in vigore, entra in aiuto nell'indagine la FSC, Financial Service Commission che dà una mano a questa indagine per cercare di capire all'interno degli exchange tramite lo studio di tutti i vari conti bancari insomma se ci sono frodi, il riciclaggio di fondi, di denaro perché insomma questa cosa loro appunto dicono la blockchain è un'innovazione molto importante che sta prendendo molto piede dobbiamo evitare che ci sia qualcuno che se ne approfitti cavalcando questa onda per fare i suoi intrallazzi diciamo così quindi sicuramente si stanno inasprendo tutti i controlli e sicuramente anche giusto così. Rimaniamo sempre in Corea perché l'ultima notizia deriva sempre da lì perché parliamo adesso di LG CNS che praticamente sarebbe una sussidiaria di LG Corporation, il grande colosso dell'elettronica che lancia la sua applicazione per blockchain, si chiama Monachain, io lo dico così in italiano, è un po' brutto la Monachain però va bene e praticamente questa piattaforma blockchain permetterà innanzitutto di avere un sistema di riconoscimento di identità digitale fatto da loro che quindi permetterà e agevolerà i pagamenti tramite smartphone o dispositivi intelligenti. Inoltre questa Monachain permetterà anche l'apertura di un wallet digitale quindi si potranno fare anche trasferimenti di valore infatti stanno anche cercando di fare degli accordi con delle banche per cercare appunto di portare la diffusione delle criptovalute nel più ampio diciamo parco di persone possibili cercando di diffonderlo nella popolazione il più possibile. Tra l'altro stando ovviamente sempre a dichiarazioni di chi ha collaborato e fa parte del team appunto Monachain cito letteralmente può aiutare le imprese a potenziare la propria produttività grazie al sistema digitale di gestione della catena di distribuzione che permette ai fornitori di gestire l'intero processo di produzione in modo efficace quindi anche qui torna diciamo al centro della questione sicuramente la tecnologia blockchain applicata alla logistica quindi alla supply chain alla gestione di tutto quanto l'azienda. Notizia sicuramente molto interessante tra l'altro riporto diciamo così a fine dei titoli anche il fatto che comunque anche Microsoft e anche Amazon stanno cominciando a muoversi in direzione blockchain avevamo già anche parlato nei servizi precedenti con Microsoft Azure che lancia il suo servizio anche Amazon nel suo servizio di cloud computer ha lanciato la sua piattaforma per standardizzare la creazione semplifica la creazione di applicazioni decentralizzate quindi sicuramente molto importante anche se Bill vorrebbe shortare il bitcoin poi però Microsoft si butta capofitto nella ricerca della blockchain e vi lascio anche poi in descrizione un articolo se volete leggerlo del sole 24 ore sia per questo articolo sia per l'articolo su Zcash, la news su Zcash ringrazio uno dei ragazzi dell'academy che me l'ha passato Marco Ferrante e vi lascio appunto questo articolo del sole 24 ore se volete leggere il riassunto è sostanzialmente che stanno ancora cercando di inquadrare il bitcoin all'interno della legge italiana e a quanto pare è considerata moneta per gli scambi se viene accettata dagli altri ma quindi e quindi è esente dall'IVA. Vi lascio l'articolo così poi lì è tutto citato e non sto io adesso a dirvi il decreto numero è perché è un casino ok quindi vi saluto per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi